La moschea di via Zara Foggia sarebbe stata la base logistica di Eli Bombatalev, il ceceno arrestato nei giorni scorsi perché sospettato di essere un terrorista dell'Isis. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, il ceceno, proprio nei locai della moschea foggiana, avrebbe infatti svolto attività di indottrinamento con l'obiettivo di reclutare nuovi adepti alla Jihad. Tre suoi allievi sostiene l'accusa, un tunsino residente a Carapelle che era stato arrestato lo scorso febbraio a Foggia perché sospetto terrorista. Tre suoi adepti, inoltre, anche due fratelli albanesi di 23 e 26 anni residenti a Potenza che sono stati espulsi dall'Italia nei giorni scorsi per motivi di sicurezza nazionale. Anche loro, secondo quanto emerge dalle carte dell'inchiesta, avrebbero frequentato i locali della moschea di via Zara Foggia, anzi, dice l'accusa, i fratelli albanesi gestivano la moschea per quel che concerne almeno gli orari di apertura e chiusura, avendo la disponibilità delle chiavi dei locali. Inoltre, per i magistrati, la moschea dal Ceceno e dai suoi adepti era considerata un luogo sicuro all'interno del quale gli indagati avrebbero maturato propositi violenti legati ai temi del fondamentalismo islamico. Dunque, la moschea di via Zara sarebbe stata la base operativa in particolare proprio per i processi di radicalizzazione islamica dal Ceceno, ritenuto un terrorista islamico. Ora c'è da chiedersi se gli adepti dell'arrestato siano stati solo il tunisino e due albanesi. Non è escluso però che tra i musulmani che frequentano la moschea qualcun altro abbia potuto abbracciare e fare proprie le tesi del fondamentalismo islamico predicate da Bomba Taliev, che a volte, proprio nei locali di via Zara, svolgeva anche la funzione di imam.